posto guardate qua vabbè parla da solo vista da dieci e lode siamo nella solita stradina che da Brickberton ci riporta alla strada che da Acqui va verso il Sassello la strada che noi tutti amiamo sono tipo tre chilometri ma brutta davvero come strada poi il paesaggio secondo me è una figata però per diciamo il ramo a scannonatore questa stradina qua è un mezzo supplizio ovviamente come sempre quando sono in strade di merda salutiamo Maneggia però questa strada qua forse non ha mai fatto adesso è la prima volta quando torna dal viaggio che sta facendo in giro per l'Europa lo portiamo immediatamente a fare sta strada qua e niente ora tornando indietro andiamo poi sulla strada che porta al Sassello si scannona un pochettino e poi giù fino dal bisola e il giro poi sarà finito regalo due immagini di questo paesaggio qua e una punta di romanticismo nei giri gorilla e via così grazie a tutti grazie a tutti